Ciao a tutti, eccomi tornata con un nuovo video, questo è brevissimo soltanto per avvertire di un incontro che si farà a Milano come al solito, non so se notate la luce oscena, è perché è praticamente notte in realtà io avrei dovuto finire di lavorare alle 4 e mezza ma poi sono tornata a casa alle 6, che bello vabbè, ma a parte questo, sapete che io non sono in grado di fare un video di invito ad un incontro con un anticipo superiore a una settimana, cioè è geneticamente impossibile che io riesca a fare questa cosa perché dovrei organizzarmi e io non sono in grado comunque è successo questo, delle ragazze del gruppo mi hanno chiesto se... mi hanno invitata ad un evento che si chiama The Pio 34 Diet Meeting e si tratta di un pranzo, tutte insieme, al Dez Vapore il 2 novembre il 2 novembre che è festa, so che effettivamente essendo un giorno di festa probabilmente... cos'è? I morti? o i santi? Sì, non sono molto ferrata con le feste, comunque so che probabilmente avrete già degli altri impegni però qualora non abbiate impegni per pranzo saremo felicissimi di avervi con noi appunto, vi ho già detto, andiamo al Dez Vapore, quindi c'è la possibilità di mangiare super sano c'è la possibilità di mangiare porcate eventualmente, per chi è di voi vegetariano state tranquilli tutto a posto c'è anche qualcuno che viene in treno, quindi li andiamo a prendere in stazione centrale in mattinata so che c'è ad esempio Barbara che arriva da Torino e altre persone che comunque arrivano in stazione centrale quindi qualora voi vogliate venire in treno, non c'è alcun problema, veniamo a prendere noi si fa un giretto e poi si va insieme a piedi al ristorante, che comunque è in una zona centrale qualunque persona voglia venire è ben accetta io vi saluto, vi metto nell'info box giù sia il riferimento del ristorante che l'orario di incontro che sarà per l'ora di pranzo se venite al ristorante e in mattinata sul presto, ottobre 9-10 in centrale e detto questo vi saluto e spero che qualcuno di voi voglia venire perché a noi fa piacere tantissimo già siamo una decina credo e non ci conosciamo fra di noi quindi insomma ci si conosce da capo tutti quanti non c'è alcun problema, non vi preoccupate non sarete fuori dal gruppo perché in realtà il gruppo non si conosce già e vi ripeto metto il link del gruppo facebook dell'evento nell'info box non so se è un gruppo, forse è solo un evento, se riesco metto il link nell'info box non mi contattate qui su youtube perché le mail di youtube non mi vengono notificate quindi è probabile che io non le legga, qualora vogliate venire all'evento appunto contattatevi su facebook, mi trovate all'interno del gruppo del più 84 diet sono quella che si chiama Pio, vabbè e comunque c'è il messaggio di benvenuto all'interno del gruppo, quello grosso e se no venite direttamente alla pagina dell'evento e trovate un modo di contattarci e fartemi sapere che ci siete oppure se non avete facebook mi iscrivete qui sotto un commento il fatto che venite e io vi aspetto, cioè mi ricordo del vostro nome, ci mettiamo d'accordo qui sotto nei commenti sì, mi sembra forse più facile, nei commenti più facile e nulla, scusate ancora per il preavviso scarsissimo io non sono in grado di fare una roba fatta bene ora vedete questo letto, io mi distenderò lì e morirò lì perché sono devastata, ho un mal di testa che non ci si può credere volevo fare anche altri due video ma non ce la posso fare fra l'altro col fatto che praticamente è fuori buio ma sono le 6, non è che è tardi col fatto che fuori è buio ho dovuto piantarmi una bajur in faccia perché io non ho luci professionali ovviamente e sembro tipo Casper il fantasmino che per i morti tutto sommato ci sta anche bene però cioè mi vedo nell'anteprima sono totalmente bianca ma io non sono così bianca ve lo giuro sto divagando per chi c'è ci vediamo all'incontro per chi non c'è ci vediamo al prossimo video ciao